Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, questo è un video diverso dal solito, infatti quella giornata non stavo utilizzando la GoPro perché era una giornata un po' così, non avevo voglia di registrare però alla fine è arrivata una mangiata una mangiata da un siluro a rara quindi ho voluto fare anche così un po' un esperimento e registrarvi un video in questa maniera col telefono, ripresa esterna ovviamente mancano un paio di parti, tipo mangiata e tipo il saposo del pesce però eravamo là col telefono ed è stato veramente veramente difficile è un pesce non enorme però mi hanno reso le cose complicate dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete quei iscritti lasciatemi un costo dei commenti e presto arriveranno video di siluria a rara preparatevi, mangiate, ma che mangiate, che fanno è una droga ragazzi, è una droga ormai questo video se volete è disponibile anche sulla Instagram TV dunque ragazzi credo di aver detto tutto quindi direi via con il video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eh, tiralo fuori te adesso. Ecco, calma, tanto mi ritrovi un po'. Metto un po' di musichetta qua in cuffia. Vediamo cadere dentro. Non è piccola. È piccolo, l'ho visto. C'è? Ma sulle alghe. Ho bisogno di un po' più di stabilità. Sto da prendere il fiore? Sì. Un piccolo di vino, però, così la vana. Non so se vai. Sì, vecchio. Dovete spostare tutti i airby prima di tirarlo fuori. Non so. Anche qua, le anche a profondità non posso neanche andare dentro. Eh, il mio è stivai, dipende quando che l'è. Sì, anche il mio è stivai. Sì, ma qua mi... Posso mettere... Guarda come se ne va il bastardo. Sì, tutto il grumo di airby. Vostia. Sì, è andato a fare un giro attorno alla cosa, proprio alla pianta in sé. Cioè, io posso... Al centro principale. Sì, non sto combattendo contro il silenzio, sto combattendo contro gli altri. Sì, sono anche avuto. Il spirito da motvину è stato pensando. E qua, qua c'è, qua c'è qua. e si impiantava no sapevo che dovevo portarmi la canna da casa bene ragazzi questo cellulotto preso sulla rana mangiata a galla veramente impressionante un'esplosione fotonica dopo il lancio con schifata una piccola cercata e boom bottone su questa boccuccia un'esplosione fotonica un'esplosione fotonica